Allora bambini, abbiamo preso un'ascia e abbiamo buttato giù la porta e ci siamo trovati fiamme alte 10 metri. Una volta ho curato un alligatore di due metri. Io sono un'impiegata del Ministero e mi occupo di buste paga. Qual è il nostro obiettivo principale? Proteggere i cittadini senza che se ne accorgano. Stai mettendo a Raventaglio vent'anni di carriera per vendicare i tuoi ex compagni di scuola? Allergie? Sono allergica ai gamberetti, proprio mi sento morì, tu dammi un gamberetto e io schiatto. Sono tutto gonfia, ho la bocca gonfia, la lingua gonfia, la bolla gonfia, sono tutto gonfia. Perché tuo papà vi siete lasciati? Perché mamma e papà fanno tutti e due dei lavori troppo impegnativi. Lui sì, ma tu calcoli la tratenuta da conto. Si dice ritenuta da conto. Mi scusi, è un po' raffreddato. Dai cimurro ciasto, ragazzini. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.